Una volta mi voglio arrisicare, nella tua stanza voglio venire, nella tua stanza voglio venire. Io ve ne dico chi t'ha fatto l'occhi, chi te l'ha fatti, tanto innamorati, tanto innamorati. Vieni, vieni, vieni alla finestra, d'ecco che passa lo ragazzo tuo, con un canestro tutto pieno d'ova, montato con le pampane dell'uva, pampane dell'uva. Vieni, vieni, vieni alla finestra, quasi che il vostro cuore provasse un inciampo nell'accostarsi al mio, il quale vorrebbe essere veduto da voi una volta sola e per un solo lampo. Questo gli basterebbe. Vieni, vieni. 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 Sono più di 300 tomi e tutti in ottime condizioni Fanno parte della biblioteca del convento di Macerata Gli ho pagati a peso di carta Tenendo gli occhi aperti si possono fare acquisti vantaggiosi Dovreste fare più moto e ginnastica Grazie Historia profana Historia profana Historia profana Geografia Geografia Historia sacra Historia sacra Historia sacra Filosofia 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 Impedito di dirle a voce quanto io sento Mi permetta che io le faccia una protesta e una dichiarazione per iscritto Questa è la differenza